Un pomeriggio e ben ritrovati con Spazio Reteo, i protagonisti dell'attualità come non li avete mai visti. Oggi il nostro ospite è Mauro Sarnella, direttore generale della neonata Accademia Tennis Giuliano, ma anche tecnico della nazionale, insomma anche esponente dell'Accademia Tennis Napoli, come vedete vedo anche la filpa che reca appunto la dicitura. Allora andiamo a scoprire Mauro Sarnella, partiamo da una foto che può sembrare semplice, tu nel campo con una racchetta, la tua passione, la tua vita, la tua professione, da dove nasce questa passione, come inizia a giocare a tennis Mauro Sarnella? Allora intanto buonasera a tutti e a tutti gli amici del Club Italia, sì io sono di Casoria, ho iniziato quasi per gioco perché i miei amici giocavano a calcio per strada quindi a 13-14 anni, c'era poca via di uscita voglio dire perché io sono del 70 immaginate, parlo del 1984 e ho scoperto questo sport meraviglioso che è il tennis e che devo dire grazie al tennis ho raggiunto degli obiettivi nella mia vita importanti ma soprattutto mi ha tolto dalla strada perché a Lega c'eravamo tutti scugnizi napoletani quindi per strada. Questa foto come dicevi tu prima in pratica è in quel momento sto dimostrando la volée che è un colpo del tennis, è un colpo dove non si fa rimbalzare la palla ma si cerca di far leggere bene il piatto corde della racchetta affinché l'allievo dall'altro lato riesce a capire come colpirla, come impattarla. Casoria, area nord di Napoli, qui siamo a Giuliano quindi a pochi chilometri, territori che hanno sempre sofferto della carenza di impianti quindi come è iniziato? Non è stato semplice immaginiamo? Allora sì, noi veniamo dalla provincia quindi abbiamo fame e voglia di emergere sì, diciamo che un po' tutto il centro sud è carente per quanto riguarda le strutture soprattutto nel tennis perché poi il tennis è nominato, è detto come sport d'elite ma noi stiamo cercando di portarlo un po' in giro a tutti quanti i ragazzi disagiati, quelli che vengono dalla strada come lo venivo io quelli che non hanno la possibilità di fare questo sport perché è uno sport abbastanza ricco perché c'è bisogno di tanti soldi per emergere poi. Questa è una domanda che ti volevo fare, adesso andiamo a quest'altra foto arriviamo ai giorni nostri, centro Antares, questa è di qualche settimana fa, una nuova avventura che è partita addirittura nei giorni scorsi abbiamo avuto la serie A1 di tennis qui nella nostra città come è nata quest'idea e dove vuole arrivare il centro Antares, dunque l'Accademia Tennis Giuliani? Proprio quella foto mostra il board esecutivo dell'Antares, quello al centro del dottor Laudiero un grandissimo professionista, un otorino di Afragola, sulla estrema destra Aldo Russo il mio socio dell'Accademia Tennis Napoli poi sulla mia sinistra c'è Renato che è un grandissimo imprenditore sempre di Afragola e Peppe ha finito che è il presidente dell'Accademia Tennis Giuliano e insieme abbiamo unito le forze per provare a fare a Giuliano quello che stiamo facendo a Napoli da anni devi sapere che noi abbiamo una struttura a Napoli, l'Accademia Tennis Napoli, che è la terza scuola d'Italia Siete nella top 5 d'Italia anche come scuola di tennis? Sì, perché c'è un sistema delle scuole tennis dove io tra l'altro faccio parte dei fiduciari della Campania siamo tanti fiduciari in tutta Italia dove giriamo le scuole tennis, andiamo a certificare le scuole quindi la nostra è una scuola a 5 stelle che è il massimo delle stelle, quindi si chiama Top School per partire poi dalla club, dalla basic, dalla standard, dalla super e per arrivare poi alla top school Uno slogan che ho visto che state usando è il tennis per tutti, prima parlavamo di sport d'elite dunque è vera questa affermazione, il tennis è uno sport per ricchi e come si fa ad avvicinare anche chi ha meno possibilità a questo sport? Ci siamo accorti col passato del tempo che una volta i bambini ci cascavano nei circoli era il boom del tennis dove c'erano, non so se vi ricordate, i grandi campioni Barazzutti, Panatta in quell'epoca abbiamo vinto la Coppa Davis e poi voi per tanti motivi un po' si sono allontanati da questo sport e per l'enorme antagonismo che poi c'è con gli altri sport ma realmente noi nel giro di 10-15 anni abbiamo portato il tennis nelle piazze, nelle città, nelle province a Scampia, a Giuliano, a Casoria, ad Afragula perché vogliamo che il tennis sia per tutti, lo slogan è proprio fatto apposta quindi con un progetto che è racchette di classe, entriamo nelle scuole con il progetto federale e nelle ore curriculari insegniamo il tennis, lo sport della racchetta affinché poi i ragazzi ci possano raggiungere nel circolo e diamo tante borse di studio, perché? Perché realmente ci siamo accorti che i campioncini escono proprio dalle province, dal popolo, dalle case popolari o come avviene per il calcio per il calcio, per il pugilato, lo stesso Patrizio Liva che sta facendo questa iniziativa col pugilato nel calcio ce ne stanno tanti altri lo stesso Lorenzo Insigni è nato qui vicino a Fratta Maggiore tra l'altro ed è stato scoperto in un centro di calcetto quindi voglio dire è più facile andare a ricercare i futuri campioncini proprio nel popolino, nel popolare A livello internazionale però l'Italia si ripete sempre questo nome di Panatta a volte battuto il record che non accadeva dai tempi di Panatta abbiamo Fognini, abbiamo Cecchinato adesso ho visto entrato, come mai l'Italia non riesce a sfondare magari come in altre nazioni? Allora noi abbiamo vinto la Coppa Davis tanti anni fa con Panatta, Barazzutti, Zuccarelli però io penso che in questo momento il tennis sia all'apice proprio del massimo della sua espressione in Italia perché? Perché non è mai successo di avere nei primi 20 giocatori due giocatori tra l'altro con un potenziale ancora più alto undicesimo ed undicesimo ed undicesimo alle porte del Master che si gioca a novembre quindi tra un po' e c'è possibilità che addirittura Berrettini che tra l'altro a differenza di Fognini non ha 32 anni ma ne ha 22 quindi significa che per la prima volta c'è stato un tennista giovanissimo perché noi portiamo la nominata in Italia che diventiamo campioni tardi maturiamo tardi, siamo tutti figli di mamma e di papà la pasta, la pizza e ci sacrificiamo poco invece non è assolutamente vero è un buonissimo momento per il tennis italiano tra l'altro abbiamo, penso siamo l'unica nazione ad avere Super Tennis un canale che per 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno proietta tennis in continuazione prima qualche tempo fa bisognava essere abbonati a Sky per provare a vedere delle partite oggi vediamo partite in continuazione liberamente senza TV? qui invece vediamo credo sia una foto di famiglia questa no allora qua sono con un gruppo di ragazzi in giro per quest'estate abbiamo fatto una, non c'erano tornei di seconda categoria in Campania a luglio ho preso quattro ragazze, un ragazzo e mi sono trasferito giù in Calabria tuoi allievi i miei allievi e siamo con il papà di questa bambina che è un ristorante buonissimo a Siderno in provincia vicino Reggio Calabria e abbiamo fatto praticamente un gemellaggio con loro noi siamo tra l'altro gemellati con l'Accademia Tennis Bari e l'Accademia Tennis Reggio Calabria e facciamo molte iniziative insieme un asse meridionalista ci spostiamo spesso da loro, loro vengono da noi e facciamo dei gemellaggi, facciamo le torne insieme, ospitiamo noi ragazzi anche in vacanza, maestro di tennis assolutamente sì io la chiamo una missione pure perché i ragazzi sono in continua evoluzione hanno bisogno di fare risultati, mantenere la classifica è uno sport difficilissimo e quindi cerchiamo in linea di massima di farli giocare tutte le settimane qui invece sei con i tuoi figli? qui sono in un momento di relax con i miei figli quest'estate dove ho avuto pochissimo tempo forse una settimana centrale ad agosto siamo stati un po' a Ischia, un po' diciamo sulla costiera amalfitana e nei pochi momenti che ho con la famiglia seguono le tue urme, già giocano anche loro? allora quello più grande, non quello al centro, l'altro, Francesco gioca a tennis è un quarta categoria, lui ha fatto per sette anni rugby e poi piano piano si è voltato verso il tennis l'altro invece fa un po' tutti gli sport, gli piace molto la scuola quindi sono contento uguale, che non fa attività agonistica ma si diverte un po' con tutti gli sport almeno variamo un po' sì, assolutamente sì qui invece aveva anche una foto con tua moglie mi dicevi, tanto tempo in giro, anche prima noi siamo sentiti, eri ad Agnano, poi sei tornato a Giuliano insomma, si ritaglia spazio per la famiglia con tante difficoltà sì, allora io ho scelto per, a parte abbiamo fatto della nostra passione il nostro lavoro, io ho scelto di fare il maestro un po' più allenatore un po' più tecnico, quindi gira il mondo in continuazione tra l'altro il 7 dicembre colgo l'occasione per dirvi proprio questo andiamo a Miami da Nick Bollettieri ci sarà proprio una foto dove siamo con Nick Bollettieri noi siamo gemellati anche con la M&G Academy di Miami e con Emilio Sanchez che troverai anche nelle foto dove noi andiamo assolutamente lì ad aggiornarci in continuazione perché secondo noi il confronto fa crescere molto il confronto ci tiene a cavallo degli eventi e mutamenti di questo sport che cambia in continuazione e cerchiamo di essere sempre al massimo della nostra forza e espressività nel tennis a proposito di grandi nomi in città da domenica si vociferà tanto di questo Bautista Augut è stato un campione spagnolo lo è ancora un campione spagnolo che gioca a Giuliano la New Torre del Greco che fa la Serie A1 un bello orgoglio mamma mia, allora devi sapere che noi abbiamo inaugurato il 12 settembre la struttura e abbiamo avuto perché strutture come queste di Giuliano Lantares non ci sono in Campania noi siamo come dicevamo prima carenti nelle strutture abbiamo la possibilità di ospitare questi eventi a livello internazionale devi sapere che la Serie A1 è dopo la Coppa Davis l'evento più importante in Italia si gioca quando i giocatori non diciamo finiscono l'attività agonistica quindi iniziano la preparazione invernale ed è un campionato a tutti gli effetti un campionato di Serie A e la prima l'abbiamo giocata contro l'Angiulli Bari quindi l'abbiamo giocata perché mi sento un po' pure io parte di questa competizione dove abbiamo messo a disposizione la struttura ma soprattutto i nostri mezzi i maestri le persone del ristorante che ci stanno collaborando gli alberghi e colgo l'occasione per ringraziare anche Francesco del Premier che ha messo a disposizione la sua struttura alberghiera per ospitare questi giocatori qui tra questi ospitati in fascia costiera qui invece con chi sei ti vediamo qui sono con un mio collega un mio amico maestro devi sapere che io ancora mi diverto a giocare nel mio pochissimo tempo libero quindi dopo dalle 19 in poi cerco di andare a fare ancora tornei gioco ancora in secondo uno over 35 tra l'altro ce n'ho qualche anno in più però gioco ancora con i 35 perché mi piace competere con gente più forte e quindi mi diverto a fare ancora l'attività pure perché mi sento ancora pronto per poi trasmettere ai miei allievi le sensazioni che si provano ancora nella competizione a tutti gli effetti il tennis è uno sport fino a che età si può giocare? devi sapere che è altamente formativo perché la federazione della tennis attraverso un circuito che è il Fittino del program con racchette adeguate e soprattutto con misure dei campi adeguati cerca di mettere in condizione il bambino dai 5 anni in poi perché ci sono delle capacità si chiamano capacità coordinative chi vuole iniziare a 5 anni? a 5 anni sì perché al di là del fatto che abbiamo ancora qualche pediatra contro tra virgolette però un po' si stanno aggiornando il tennis è formativo perché dai 5 ai 12 anni noi sviluppiamo le capacità coordinative ed è il momento più fertile sono le capacità che regoleranno il movimento del bambino del ragazzo che poi diventerà un uomo quindi in quegli anni là si sviluppano queste capacità e nel tennis sono proprio il massimo dell'espressione qui invece un'altra foto di gruppo qui con chi sei? vediamo questo è Berrettini il numero 1 di Italia in questo momento insegna Fognini Consone con l'altro ragazzo di Torino questo è un evento che abbiamo fatto di Caprivoce ad Agnano lo scorso anno abbiamo augurato ai ragazzi di fare una buonissima attività in questo momento della foto Berrettini era 52 del mondo e c'era 21 anni io mi sono permesso di dirgli che secondo me entrava nei primi 10 del mondo devi sapere che i primi 5 tornelli lui ha perso al primo turno ci siamo sentiti spesso e io ho detto Matteo non mollare perché sei troppo bravo perché hai dei colpi fantastici ci puoi arrivare a quelle classifiche a quei diciamo nei top 10 infatti alle porte il numero 11 del mondo probabilmente entra nel master ed è per noi una cosa bellissima molto probabilmente verrà a giocare a Giuliano perché poi lui è tesserato con la Niene con Roma e quindi molto probabilmente verranno poi a giocare la Serie A1 se andiamo avanti nel campionato quindi avremo un altro campione avremo un altro campione il territorio non è ancora abituato assolutamente siamo pronti per ospitarli qui invece vediamo un'altra foto qui sono con Marin Cilic che è stato numero 4 del mondo è sempre un'iniziativa con Caprivoce Marin è una persona splendida fatto finale a Wimbledon ti ho detto io col fatto di allenare e di essere in giro sempre per il mondo conosco tanti tennisti importanti quindi la mia diciamo il mio piacere è quello di poi conoscerli di persona e vedere proprio come vivono loro la giornata come si mettono in condizione di essere campioni perché sono campioni e sono dei grandi uomini tra l'altro vediamo tra l'altro ragazzi molto umili a quanto pare devi sapere che più sale il livello più sono umili l'altro ieri anzi ieri la Serie A1 c'è stato c'è stato un ragazzo che era 130 del mondo lo scorso anno Gutierrez uno spagnolo che non si è lamentato di niente credimi lo vedevi un professionista qualcuno si è lamentato dei luci dei campi che girava troppa gente che c'era un'enormità di persone lui invece è concentratissimo a giocare a fare la sua partita e più sale il livello ti rendi conto che più sono dei professionisti e non badano a piccolezze diciamo a cose che possono distrattere cosa che non avviene negli altri sport a quanto pare quando vediamo delle superstar assolutamente sì e più si è basso livello più si è poco umili la grandezza dei campioni però è proprio così allora ci fermiamo giusto per qualche minuto come sempre i consigli di spazio reteo poi ritorniamo qui ad ascoltare la storia di Mauro Sarnella ciao hai saputo dire teo è il punto di riferimento per i prodotti di informatica sicurezza e illuminazione è venita al dettaglio ma è soprattutto un luogo per i professionisti vieni a trovarci siamo a giuliano in via cataste numero 4 e non aspettarti il solito negozio allora ben trovati continuiamo questa nostra intervista con Mauro Sarnella direttore generale della neonata Accademia Tennis Giuliano per citare un titolo ma sappiamo che ha anche diversi titoli tu sei anche tecnico della nazionale diciamo tecnico nazionale devi sapere che come le scuole tennis ci sono poi delle categorie diciamo dei maestri gli insegnanti si parte dall'istruttore di primo grado per arrivare a quello di secondo grado poi c'è il maestro nazionale e poi c'è la massima espressione per l'insegnamento che è il tecnico nazionale è un corso che si fa di tre anni in giro per l'Italia e poi anche nel mondo affinché poi puoi esercitare l'attività agonistica e quindi insegnare e allenare i giocatori quelli professionisti a proposito di vertici questa è un'altra foto qui sei con un vertice regionale del tennis si qua siamo col presidente avvocato e tra l'altro maestra di tennis Virginia Di Caterino che è la prima donna ad essere presidente di un comitato regionale tra l'altro infatti è una cosa nuova per noi e lei è una malata una appassionata di tennis sta dando una grandissima mano alla regione alla federazione la feder tennis campana rispetto ad altri sport il tennis sembra sia stato uno dei primi ad abbattere anche questa barriera del maschio e femmine un po' a raggiungere l'eguaglianza possiamo dire sì devi sapere che qualche anno fa erano divisi anche nel circuito mondiale si giocavano i tornei femminili e poi la settimana successiva i tornei maschili ed i montepremi non erano uguali invece adesso c'è stata questa cosa bella che è la parità anche nel tennis e nello sport dove i montepremi sono uguali sicuramente le donne non fanno come negli slam 5-7 ma ne fanno due su tre e però giocano nella stessa settimana quindi al Foro Italico a Wimbledon a Miami a Biscayne giocano nella stessa settimana maschi e femmine quindi fanno tutto insieme bello qui abbiamo una foto Accademia Tennis Napoli quindi ti chiedo lo stato di salute del tennis a Napoli cosa è stato fatto e cosa c'è ancora da fare per raggiungere il livello di altre città europee allora c'è tantissimo da fare devi sapere che a luglio ci sono state le universiadi io sono rimasto un po' male perché i nostri politici hanno fatto poco per il tennis come al solito abbiamo fatto molto bene la parte visiva ci sono fatti vedere nel mondo sul lungomare abbiamo costruito le strutture per far vedere al mondo intero che Napoli è sempre presente infatti un grande applauso va al sindaco per aver fatto questa magnifica coreografia però siamo rimasti senza strutture nel senso che comunque proprio nel tennis approfittando di questi giochi non c'è stato poi un rientro quindi le strutture sono rimaste fatiscenti carenti e solo gli imprenditori quelli importanti che cercano di dare una mano al tennis attraverso le sponsorizzazioni poi provano a costruire delle strutture belle a proposito di strutture lo diciamo prima Centro Antares si è inaugurato da pochissimo il 12 il 13 settembre come è nata quest'idea di investire su Giuliano allora guarda qui è una zona fertilissima devi sapere come dicevo prima che c'è un un grande materiale umano nel senso che i ragazzini sono fertili per lo sport agonistico poi questa struttura io poi ho saputo mi sono informato era stata costruita tanto tempo fa però non è mai mai partita mai affidata ferma per alcuni anni però era stata progettata in un certo modo ad un certo livello e quando mi hanno mi hanno contattato tra virgolette per portare avanti questo progetto diciamo tennistico in questa zona di Napoli Nord io sono rimasto entusiasta devi sapere che abbiamo già essendo tutti casoria dal territorio vicinissimo ma abbiamo già una buonissima scuola tennis da dieci giorni siamo partiti abbiamo oltre 50 bambini abbiamo un istituto scolastico di fronte e abbiamo già un gruppo agonistico di 12-13 bambini ma siamo partiti da dieci giorni e io penso che nel giro di qualche mese secondo me scoppierà la bomba del tennis la struttura merita c'è voglia ci sono tanti appassionati nell'Interland Villa Ricca Giuliano è una bella zona una bella zona molto fertile per lo sport in generale ma per il tennis soprattutto vogliamo ricordare un po' le iscrizioni come funziona voi da che età fino a che età allora noi abbiamo come dicevo prima abbiamo fatto cominciare col mini tennis quindi a 5 anni ci sono dei corsi che vanno dai 5 ai 9 anni e giocano tre volte a settimana un'ora e mezza perché nell'ora e mezza gli mettiamo anche la parte complementare che è quella parte motoria che ti dicevo prima quindi la capacità di sviluppare anche la parte fisica quella mentale che abbraccia quelle sfere dell'insegnamento e quindi facciamo dei corsi anche per ragazzi che partono dagli 11 ai 14 anni e poi c'è l'attività agonistica con tra l'altro dei prezzi proprio modici pure perché dobbiamo avvicinare le persone al tennis quindi è veramente diciamo un prezzo accessibile a tutti il slogan di prima è il tennis per tutti ma realmente è per tutti ti faccio un'altra domanda prima lo dicevi anche tu il centro lantares è stato è stato fermo per anni spesso vittima di atti di vandalismo di degrado voi che misure avete deciso di intraprendere per evitare appunto raid vandalici comunque furti per preservare quel gioiellino allora io è da aprile da maggio che sto lavorando per quella struttura perché prima di inaugurare abbiamo dovuto fare delle cose abbiamo messo delle superfici sui campi diverse abbiamo fatto quattro superfici uguali e quindi bisognava bisognava chiamare le migliori ditte per mettere a posto per avere poi la gibita dalla federazione italiana tennis per poi fare questi eventi la serie A tra l'altro colgo l'occasione la prossima settimana ci sarà un torneo di seconda categoria la prima volta che si gioca in questa zona di Napoli Nord un torneo open aperto a tutte le categorie con 1500 euro di Montepremi dal 23 al 2 di novembre e tra l'altro il nostro amico diciamo io li chiamo amici del tennis il nostro sponso è Areteo di Giuliano Russo ed è Francesco del Premier che ci dà una grande mano per questo approfittalo bravissimo il cognome non mi veniva ed è un altro amico del tennis quindi in maggio per la sicurezza sarete belli coperti anche da occhi elettronici bravo siamo coperti siamo molto coperti prima parlavi proprio di giovani di insegnamento di ragazzini questa è un'altra foto con una giovane tennista con un trofeo Maira Milone 13 anni campionessa regionale io stavo seguendo la sua finale a Toro del Greco in quell'occasione ha vinto i campionati regionali della tennista più forte della campagna per quella categoria a soli 13 anni a soli 13 anni qui un'altra foto di gruppo un altro trofeo questo è un altro torneo vinto quest'anno con un mio collega Giuseppe Viviano che è di Scafati quello a sinistra è mio fratello direttore tecnico del circolo del pentathlon che è una struttura che noi seguiamo da un botista tecnico e l'altro ragazzo è operatore fisico Spesso si vede tanta differenza proprio di compensi tra tennisti a parte i top e i calciatori a cosa è dovuto? Maggiore attenzione mediatica meno sponsor Allora purtroppo nel tennis per guadagnare ci sono tanti soldi noi conosciamo Federer Nadal Djokovic quelli sono campioni che praticamente sono come il Ronaldo del calcio parliamo di fuori classe sono fuori classe sono come Valentino Rossi come Marquez sono i numeri uno dello sport di quella disciplina e lì guadagnano tanti soldi hanno tanti sponsor per arrivare a guadagnare i soldi nel tennis devi raggiungere almeno la vetta dei primi 100 del mondo perché prima dei 100 del mondo il sistema tennistico non ti permette di guadagnare ma di campicchiare perché devi girare almeno 50-45 settimane a tue spese con il tuo coach e quindi girare il mondo a tue spese se non vai in tabellone quindi nel mendoro del torneo internazionale non ti spesano diventa insostenibile diventa insostenibile quindi devi essere o fortissimo tra i primi proprio della tua categoria anche a livello giovanile oppure hai degli amici che ti sponsorizzano perché diventa difficile in Italia secondo te c'è ancora troppa attenzione solo sul calcio noi siamo la federazione che ha più tesserati dopo il calcio quindi siamo oggi il tennis è uno sport che conoscono tutti tra l'altro non so se avete visto la pubblicità della Barilla con Roger Federer quindi significa che anche nella pasta che è una cosa che gli italiani amano tantissimo chiamare Roger Federer per fare con la pubblicità significa che il tennis è un po' diciamo diventato diventato uno dei top sport il calcio purtroppo è così siamo tutti malati di calcio io sono un tifosissimo del Napoli quindi rimane il primo sport diciamo secondo me nel mondo qui invece un'altra foto sempre su un campo con chi sei qui sono a Miami con la campionista del mondo la cubana di 200 metri dove la vedevo allenare e la prendevo per esempio per i nostri ragazzi perché devi sapere che negli altri sport la fanno da padrona gli aspetti fisici quindi questa ragazza è veramente un fenomeno fisico e io in quell'occasione mi sono fatto una foto con lei molto onorato e contento di averla fatta perché proprio il tennis richiede comunque un impegno fisico oramai negli sport bisogna essere degli grandissimi atleti seppure vedete in tv i giocatori di tennis ormai sono tutti grandi hanno delle prestanze fisiche diverse quindi sono molto molto forti fisicamente qui credo sia il campo proprio dell'Antares siamo proprio a sabato qui con Pellegrini che è uno dei giovani nostri più forti d'Italia tra l'altro c'è da sapere che questo ragazzo è dopo Fognini dopo Berrettini Soneco è uno dei più forti però ha problemi economici ecco lui purtroppo il papà fa l'insegnante a scuola adesso sono in cerca di sponsor perché lui è alle vette dei primi 200 del mondo ma per scalare la classifica e andare avanti ha bisogno di sostenersi economicamente e io penso che lui possa arrivare ad essere tra i primi 50 40 del mondo almeno per nei prossimi due anni quindi si può iniziare anche con scuole con prezzi più accessibili però per sfondare ho tanto talento per fare quell'attività questo ragazzo deve girare 40 settimane con il suo coach con la sua famiglia con il suo operatore atletico il mental quindi sono tante tante spese gli aerei che poi il circuito gira un po' in tutti i continenti qui ritorno sui tuoi figli questa è un'altra bellissima foto sempre al mare ti chiedo speri che uno dei due diventi un tennista importante insomma allora un tennista importante non penso ma probabilmente un insegnante importante il mio primo figlio ha scelto dopo il liceo di fare scienze motorie perché ha detto va a me farebbe piacere diventare un un operatore sportivo un non dico un coach o poi strada facendo vedrò però mi fa piacere rimanere lo sport io sono molto contento perché lui si sta attrezzando da un punto di vista tecnico per salire di classifica e per raggiungere poi quei traguardi perché per fare il maestro di tennis deve avere almeno una classifica e seconda categoria e quindi lui vorrà almeno diventare un maestro nazionale di tennis e quindi sta decidendo tra ingegneria aziendale o scienze motore che sono quelle gestionali ingegneria gestionale e quella che poi potrai essere un manager nello sport quindi sono contento che ha scelto questa cosa qui ritorniamo all'antares questa è proprio la giornata dell'inaugurazione microfono al sindaco che appunto stava parlando di questo nuovo progetto che stava partendo adesso è partito finalmente ti chiedo che ambiente trovata Giuliano anche con l'amministrazione comunale c'è collaborazione e cosa andrebbe fatto secondo te per incentivare ancora di più lo sport a Giuliano allora devo esserti sincero io ho un allievo di tra l'altro che è stato anche tra i primi del mondo Junior ha battuto Colube Giacomo Pirozzi che è un ragazzo di Giuliano io non conoscevo Giuliano sono andato due volte che ho a Giuliano prima di venire come maestro di tennis è una bellissima cittadina ed è cambiata totalmente rispetto a qualche anno fa oggi ci sono tutti imprenditori giovani c'è una bella classe politica e c'è quest'amore per lo sport vedo persone interessate ci hanno accolti tutti bene mi ritrovo tutti lì in struttura pronti a stendere una mano per aiutarci nella pulizia nelle piante che ne so nelle iniziative politiche addirittura stiamo cercando di fare un progetto come dicevo prima per le scuole quindi cercare proprio di entrare nelle scuole e devo esserti sincero ho trovato persone grandissimi professionisti soprattutto disponibili quindi l'idea è quella di fare dei corsi per gli studenti andando nelle scuole bravissimo bravissimo l'idea è proprio quella dobbiamo cercare di innalzare la cultura sportiva perché solo con una sana cultura sportiva naturalmente con l'educazione familiare e con la scuola che poi ci sostiene noi togliamo i ragazzi dalla strada e cerchiamo di parlare ma lo dicevi anche tu il tennis mi ha tolto dalla strada assolutamente sì sono contento perché perché mi ha a parte mi ha proprio trasformato come persona mi ha dato la possibilità di conoscere perché poi nel mondo del tennis ci sono dei grandissimi professionisti a tennis giocano tutti quindi per tutti e giocano tutti e quindi ho conosciuto delle persone speciali persone che poi mi hanno accompagnato nella vita e lo ringrazierò per sempre questo sport perché mi ha come dicevo prima tolto dalla strada sì assolutamente sì questa è la foto più recente quella di domenica da serie a 1 c'erano 300-400 persone guarda a un certo punto non dovi dire sapere che ci sono delle regole devi avere tre superfici uguali non abbiamo potuto giocare sul campo esterno che c'ha 450 posti ti chiedo guarda un mese ti interrompo gli spalti non mancano sono degli spalti assolutamente sì abbiamo potuto montare 200 sedie quindi abbiamo abbiamo noleggiato 200 sedie e messe intorno al campo abbiamo tolto il campo centrale perché poi devi dare la possibilità almeno a 200 persone per regolamento di vedere la partita ma ce n'erano molte di più perché a parte quelli seduti c'erano quelli intorno al campo tra l'altro stiamo cercando di completare la struttura perché non è completa devi sapere che questa struttura è una struttura coperta ma parzialmente d'inverno c'entra vento c'entra pioggia e quindi le coperture la tenale c'è una sorpresa per questa cosa perché il nostro sponsor è proprio Giuliano Russo con questa magnifica azienda ci sarà una sorpresa in primavera quando dobbiamo aspettarci nascerà l'arena non in primavera in inverno ah quindi questo è un annuncio in porti lo faccio qui con voi che tra l'altro ci troviamo proprio nella sede quindi sono contento di farlo proprio qua questo annuncio quindi ci sarà l'arena del tennis lì al centro l'arena reteo al centro di campo pannoneo sì sì e in questa arena qual è il sogno chi dobbiamo aspettarci un top internazionale potrà cercare di portare proprio l'evento più importante che può essere la Coppa Davis quindi ci stiamo attrezzando piano piano portare dei torni internazionali tra l'altro molto probabilmente ci daranno i campionati assoluti della categoria aperta a tutte le categorie che si giocheranno a novembre abbiamo dei bei progetti per Giuliano ti vediamo abbastanza ottimista abbastanza convinto Coppa Davis all'arena reteo di campo pannone che percentuali dai che possibilità ci sono allora devi sapere che la Coppa Davis è fatta proprio a Torre del Greco qualche anno fa e c'era Rafa Nadal che ha sfidato l'Italia quindi secondo me non esiste un limite assolutamente sì non esiste un limite basta volerle certe cose basta impegnarsi e si possono raggiungere tutti gli obiettivi tutti i traguardi quindi io onestamente poi col tennis ho imparato proprio questo non bisogna mai mollare si può sempre vincere la partita anche quando stai perdendo e c'è il match bollo contro quindi io sono positivo di natura e spero di poter fare una cosa del genere bene quindi un grandissimo annuncio abbiamo dato oggi a spazio reteo una bella chiacchierata è stata con Mauro Sarnella che ringrazio in chiusura ti chiedo un ultimo appello per i giovani appunto che vogliono venire da voi a che ora possono trovarvi anche insomma un appello allora intanto io vi ringrazio siete stati gentilissimi e io invito tutti i giovani di Giuliano che assolutamente devono venire a conoscere questo bellissimo sport ma soprattutto entrare nella struttura perché ci sono anche altri sport c'è il calcio c'è la piscina è uno sporting quindi l'antares è lo sport come essenza proprio e quindi dare la possibilità a tutti i ragazzini i ragazzi di Giuliano di poter fare sport bene ringraziamo Mauro Sarnella persona disponibilissima che trasmette tanta davvero energia dunque andate a trovarlo all'Accademia del Tennis del centro antares dunque per questa edizione di Spazio Reto è tutto grazie per averci seguito bene a trovarlo a trovarlo a trovarlo a trovarlo Grazie a tutti.